namaste io sono haste brave benvenuti ad un nuovo episodio di sneak peek la rubrica settimanale o che esce in realtà quando quando mi pare a volte anche giornaliera in cui vi mostro un gioco che potrebbe diventare una serie sul canale oggi proviamo un gioco molto interessante che come potete vedere è presentato da humble bundle e ho visto parecchi che hanno già fatto let's play di questo gioco che si chiama forager in questo caso forager nuclear perché effettivamente è una espansione del gioco e ci sono anche le fan art di questo gioco già adesso gioco molto molto interessante c'è una roadmap sull'uscita come potete vedere delle varie dei vari supporti eccetera eccetera quindi in realtà è un gioco molto moddabile come viene presentato e lo giochiamo per adesso con il controller poi vedremo magari di cambiare dall'altra parte il gioco è in inglese in questo momento ma c'è anche in tedesco nelle varie lingue ma non c'è ancora in italiano purtroppo quindi giocheremo alla versione inglese ci sono gli extra vediamo pure di giocare e vediamo che cosa succede iniziamo un nuovo salvataggio abbiamo la modalità classica e altre modalità che però sono ancora bloccate il gioco originale forager l'esperienza forager colleziona le risorse costruisce la tua base ed espandi il tuo impero quindi abbastanza standard come cosa apriamo il menu il menu come potete vedere è molto 16 bit in realtà come tipologia di grafica e questo è il nostro inventario molto molto semplice vediamo di costruire una fornace quindi è una specie di survival da questo punto di vista come facciamo interagire ok col grilletto possiamo spattaccare questo prendere un po di risorse facciamo anche dell'esperienza come facciamo a costruire la cosa adesso vedremo allora intanto andiamo a parlare con te 10 di esperienza perfetto andiamo un attimo nel menu che era così volevo vedere in alto come si fa ok con questi cambi voglio costruire una fornace per costruire una fornace come faccio a costruirla ok devo far così ci sono 10 di pietra ok quindi pin quindi c'ho quella 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 ricetta diciamo pinnata possiamo usare anche x per per aprire questo vediamo di prenderci sta robe e ci manca ancora un po di pietra per costruire la fornace quindi molto interessante secondo me da da quel punto di vista un pochino di terraria un pochino di minecraft un pochino di fattorio e cosa del genere quindi adesso vediamo pure di craftare quella cosa lì andiamo di qua facciamo industriale andiamo scusate andiamo devo capire un po i comandi pian piano ci arriviamo abbiamo possibilità anche di spandere il nostro territorio ovviamente fornace e piazziamo la fornace qua cosa possiamo fare con la fornace questa è allora qua abbiamo gear che è la nostra possibilità e abbiamo le fit e le gear qua c'è gli oggetti qua c'è build qua c'è buy land e qua ci sono le opzioni ok quindi andiamo di qua adesso possiamo fare la forgia su in station questa ci serve per produrre un fuoco per creare intanto facciamo un pin così liberiamo un po la cosa in realtà la posizione della webcam dovrei spostarla e facciamo così un attimo così la spostiamo magari di qua già che ci siamo così potete vedere tutto quello che c'è da quella parte e quindi possiamo interagire con questa forse interagiamo possiamo fare che ne so brick possiamo fare del carbone max sì però abbiamo bisogno di legna quindi magari tagliamo prima un po di legna ok non ho tagliato legna ho tagliato quello che c'è dietro immagino che prima debba bisogna fare una sega però adesso usiamo questo ok interagiamo con questo possiamo fare call facciamo max craft adesso ci metterà un po di tempo e farà saltare fuori le cose che mi servono farming c'è il bridge fish trap economics magical insomma c'è un bel po di roba interessante c'è un obiettivo da qualche parte no semplicemente possiamo scegliere quello che vogliamo quindi ad esempio voglio fare voglio fare una forgia se voglio dei tool per farla cosa ho bisogno per fare la forgia ho bisogno di lingotti di ferro e dei brick ok quindi andiamo a fare i brick da questa parte ne voglio quattro facciamo le due adesso facciamo gli altri quindi abbiamo bisogno di ferro sta arrivando la notte tra l'altro sembra di capire gli alberi intanto ricrescono ovviamente voglio fare ancora questi ho bisogno di altro call ok quindi prima dobbiamo produrre il call aspettiamo un attimo cominciano ad arrivare anche dei nemici allora brick ok craft come siamo ne abbiamo fatti due ci è rimasto ancora uno facciamo un altro po di questa sembra molto interessante molto leggero diciamo come gioco da quel punto di vista lì perfetto andiamo di qua di nuovo brick per fare brick abbiamo bisogno di call call abbiamo bisogno di wood quindi andiamo di qua siamo quasi a livello 2 voglio vedere cosa succede quando livelliamo tutta roba mia tiriamone giù ancora uno così vediamo il livello cosa ci dà you should eat ok abbiamo fatto uno skill point vediamo come utilizzare questo skill point quindi possiamo andare di qua skills e andiamo da questa parte possiamo decidere industria foraging magic o economy andiamo con industria unlock steel ok no andiamo con questo ok teniamolo premuto molto molto bello e quindi abbiamo un sistema questo è il sistema che abbiamo visto su final fantasy 12 mi ricordo con il sistema delle tessere da sbloccare quindi abbiamo salvato e adesso abbiamo questa cosa in più andiamo pure con uno di call come facciamo a mangiare mangiamo ah c'è la fame e lei è in alto adesso l'ho vista facciamo un altro brick ok per fare lingotti di ferro abbiamo bisogno di più roba e adesso che abbiamo fatto questa cosa possiamo andare di qua industry forge questa ci mancano gli lingotti di ferro ok quindi facciamo un po raccogliamo un po di ferro cosa ho fatto ho buttato via una roba ah no ok mi ha ho premuto il tasto per poterli rimpiazzare sembra un gioco molto molto semplice e molto bello comunque se vedete quindi fatemi sapere se volete vedere una serie magari una cosa più discorsiva diciamo e meno che stiamo attenti alle cose magari lo possiamo fare in live o una cosa del genere ho bisogno di mangiare decisamente quindi andiamo di qua possiamo fare sort e poi cominciare a mangiare ok tiriamo a spattacare un po tutto avrei bisogno di qualche oggettino migliore mi sa cosa c'è qua del carbone ho del carbone libero e vai ci voleva ok allora proviamo a vedere se possiamo fare un po di questo ho bisogno di quattro pezzi quindi pian piano costruiamo la nostra casa in sostanza in questa maniera intanto andiamo qua sempre fame hai ok ora che abbiamo raccolto un po di roba dovrei riuscire a costruire quello che ci avevamo detti cioè andando qua industria forge si la piazziamo qua vediamo come possiamo interagire con la forge possiamo costruire coin key basic shovel basic shovel ok abbiamo bisogno di 20 pezzi di ferro proviamo a vedere se riusciamo a farcela intanto andiamo a beccare le robe nostre iniziali un po di esperienza in più voglio vedere come funziona cosa vuol dire scavare nel nostro caso posso anche romperla iron ingot facciamo max in questo caso è facciamo infinite ok quindi in teoria è fin quando fin quando ce n'è adesso mangiamo il mondo di roba ok meglio c'è qualcosa di nascosto qua dietro vedo che cominciano ad apparire robe nuove tipo del grano abbiamo un altro skill point andiamo ad usarlo skill qualcosa che mi fa scavare più velocemente per adesso economy no forges create for extra va bene questo proviamolo quindi figo figo sembra molto molto interessante proprio per per poter passare un po' di tempo ok qua andiamo a produrre questo ma abbiamo bisogno di call per call abbiamo già finito andiamo con infinite ok produciamo più carbone che possiamo che tanto non sto usando per altro quindi qua possiamo fare così credo converta tutto quanto le cose che ho oh c'era una rapa decisamente bisogna ancora di mangiare ok abbiamo mangiato tutto per adesso qua c'è un fiorellino qua c'è dell'oro sì abbiamo trovato dell'oro allora iron ingot infinite craft possiamo andare avanti allineare tutto ma voglio arrivare almeno a prendere un attimo lo shovel per vedere se vale la pena abbiamo detto che per fare questo abbiamo bisogno di ancora ancora un po' per questo abbiamo bisogno di iron ore che non ho e lo trovo al ferro devo aspettarlo vediamo se ce la facciamo a farlo per la fine se no possiamo anche fermarci qua che più o meno l'idea ce l'abbiamo già di cosa di cos'è questo gioco e di quanto può andare avanti che secondo me può essere una buona una buona opportunità andiamo nell'inventario sistemiamolo cosa abbiamo qua abbiamo buy land quindi compriamo questo wow ti stavo aspettando sembra molto figo sta cosa portami due torch bags quindi abbiamo anche le la possibilità di fare di fare un po' di come si dice di questing sembra molto molto interessante bene con questo direi l'ora che ci siamo purtroppo non faremo un'altra cosa perché se no mi viene un video troppo lungo e non voglio che ci dilunghiamo troppo in questi sneak peek ho rischiato di prendere una legnata da un da un fulmine quindi meglio non finire qua diciamo ci vediamo al prossimo episodio di sneak peek se vi piace forager fatemelo sapere a me piace molto non so quanto tempo vorrò da dedicarci ma magari da fare qualcosa in live potrebbe valere la pena ci vediamo alla prossima grazie per la visione namaste e be brave